Finisce 1-1 l'atteso incontro tra il Davoli e il San Calogero, una partita comunque bella. Io pregherei la regia di staccare già al 35esimo quando c'è la bordata di Zurlo che si va a stampare sulla traversa. Un Davoli che nel corso del primo tempo ha dato davvero prova di grande capacità anche dal punto di vista dell'organizzazione di gioco perché ha giocato bene, ha davvero poi impensierito gli avversari più quotati, quarto posto in classifica. Ha diretto il signor De Napoli di Cosenza, ma noi prima di passare al secondo tempo con il gol del San Calogero perché è venuto fuori a seguito di un infortunio, possiamo dire, anzi ve lo facciamo proprio vedere in questo momento. Lo state vedendo, minuto 61, c'è il pressing in avanti del San Calogero, poi è il numero 3, Vito Cosentino che trova praticamente il piede e batte il proprio portiere, Iezzi. Sentiamo comunque il tecnico del San Calogero, Domenico Romano. Sinceramente sì, noi oggi siamo venuti qui a Davoli consapevoli di affrontare una squadra in buon salute perché l'ha dimostrato domenica gioiosa. Noi purtroppo siamo in una situazione rimaneggiata, oggi mancavano sette titolari, titolari che per noi sono, come si dice, fondamentali. Ma nonostante tutto devo ringraziare i miei giocatori, quelli che hanno giocato perché si sono comportati benissimo e avete visto che hanno lottato fino alla fine senza lasciare nulla al Davoli, anche se il Davoli oggi attaccava, attaccava, aveva avuto più possesso palla, però forse l'azione più pericolosa l'abbiamo avuta noi. E' così, sicuramente un Davoli pimpante, la traversa nel primo tempo, forse l'abbiamo dimenticata, poi un gol probabilmente regalato dal Davoli perché è stata una ingenuità del difensore del Davoli e poi il gol subito, il ripristino del pareggio. La domanda è questa, un punto che serve più al Davoli o alla San Calogero? A noi ci serve perché noi ancora dobbiamo recuperare una partita, mercoledì a Catanzaro con la Pro è una partita difficilissima. Noi il nostro obiettivo era quello di fare quest'anno un campionato dignitoso, vale a dire una salvezza tranquilla perché noi siamo una matricola e abbiamo dimostrato per tutto il campionato, fino a poco fa eravamo prima in classifica, che possiamo dire la nostra con tutti, con la nostra applicazione, con la nostra umiltà siamo riusciti ad arrivare dove siamo. Certo, il punto oggi ci fa bene perché il nostro obiettivo minimo adesso è quello di fare i play-off e un punto oggi qui a Davoli con una squadra, come dicevo prima, in ottima salute e buono e con la situazione in cui eravamo noi. E con una domanda dritto, quando a un certo punto ha mollato il San Calogero, quando ha visto che Bocale e anche il Catona erano, mi passi il termine, più forti? No, sinceramente questo non penso più forti. Avevano un'ergonica più completa di noi, questo sì. perché noi, se andate a vedere la statistica, noi abbiamo perso col Bocale la partita di andata e col Catona 2-0, le altre partite le abbiamo persi 1-0, 2-1 e sinceramente o al novantesimo o al novantaduesimo io ho capito che per noi è un pochettino dura quando abbiamo perso quattro uomini fondamentali come Ventrici, Grillo e De Pasquale che sono 300 campionisti di categoria superiore e per noi, siccome non abbiamo l'organico del Catona o del Bocale, che abbiamo 30 giocatori, noi siamo contati 21-22 e quindi ho capito che era un pochettino difficile. Il gol del vantaggio degli ospiti, anzi l'autogol, però poi c'è praticamente la reazione della formazione di casa. Nel giro di 4 minuti c'è il bel gol di Crispino al minuto 65esimo, che trova un corridoio per battere praticamente il portiere Graggi e così a ripristinare il discorso parità in campo. Del resto un pari che sta stretto proprio alla formazione del Davoli. Sentiamo il tecnico Danilo Daniele che ci dà appunto le impressioni. Diciamo che oggi abbiamo fatto una bella prestazione sotto tutti gli aspetti. Sicuramente meritavamo qualche punto in più oggi, però andando sotto di un gol, creando tantissime palle, poi tu sai come nel calcio, se non la butti dentro, tutto quello che crei non va bene. Siamo riusciti a pareggiare con tutto ciò, abbiamo avuto altre due o tre palle gol e alla fine potevamo portare a casa l'intera posta. Però il calcio è questo, l'importante è che la squadra si espressa bene, abbiamo visto tutto quanto una bella partita, si è creato tanto, si è raccolto poco, ma va bene così lo stesso. Una squadra pimpante che gioca per 90 minuti, ha concluso sicuramente poco rispetto al volume di gioco che ha fatto, a questo punto credo che uscire fuori dalla zona play-out è un gioco da ragazzi. Sicuramente è un segnale positivo questo, però nel calcio molte volte anche il bel gioco non premia. Sicuramente per me è un segnale molto positivo, speriamo solo che ora in queste ultime quattro partite possiamo fare altri punti decisivi per la classifica. Ecco, non fa testo l'esordio tuo in panchina con il Montepone, perché ovviamente eravamo lì, diciamo, freschi di nomina, poi la bella vittoria esterna e il pareggio, diciamo, di quest'oggi. Ecco, il Davoli può migliorare in questo scorcio di campionato? Io ringrazio lo staff tecnico, iniziando da Angelo Parenti, che è il preparatore dei portieri, il preparatore Ruocco Patrizio, il preparatore atletico, perché ho trovato una squadra veramente atleticamente preparata. Il mio supporto tecnico ha fatto sì che alcune cose sicuramente siano andate migliorando, però anche sotto l'aspetto del carattere. Sicuramente è un campionato difficile come questo di Rigino. Il mio supporto, spero che abbia dato qualcosina in più in questo spogliatoio, anche se, devo dire la verità, ho trovato un grande spogliatoio già molto unito, quindi a me mi ha facilitato, in queste ultime partite che sto facendo, il lavoro. Di questo ne sono veramente contento, perché è un gruppo veramente speciale, di ragazzi, i giovani che si impegnano durante la settimana e poi la domenica. Questo impegno che mettono durante la settimana mi facilita la domenica a far sì che queste prestazioni che facciamo siano veramente belle.